Direttore Thomas Schell, oggi la posa della prima pietra per una struttura che per l'ASL è definita di fondamentale importanza. Perché questo ospedale di comunità di San Salvo? Perché la riforma del territorio, anche approvata nella delibera della Giunta sulla rete territoriale, prevede che ogni distretto, in questo caso del Vastese, ha una casa di comunità hub, a cui fanno riferimento tutte le strutture territoriali. E appunto nella riforma è previsto, oltre a San Salvo Hub, Casa Albodino e GC com Spoke del Basso Vastese e poi chiaramente abbiamo ancora Castiglione e Messamarino, che appunto serve tutto l'Alto Vastese. Questa struttura ha tre funzioni, uno della centrale operativa territoriale, già operativa, la casa di comunità dove appunto si troveranno, nel vecchio concetto dell'UCCP, tutti i medici del territorio, ci sono presi i medici, i medici del generale e i pediatri di Brascelta, tutta l'assistenza infermeristica tecnica, la specialistica e chiaramente anche alcuni strumenti di diagnosi, perché qui a San Salvo abbiamo risonanza e mammografo e radiologia tradizionale, oltre all'ecografia. Poi avendo tutti questi professionisti e questi strumenti sotto lo stesso tetto, vengono associati a questa struttura 20 posti letto di ospedali di comunità, dove appunto vanno i pazienti non critici da ospedale, che appunto costruiamo al confine tra Vasto e San Salvo, ma che in ogni caso non possono stare a domicilio e questo diciamo è il futuro della sanità. Sempre meno pazienti in ospedale, che appunto è più acuti e fragili e cronici, vanno nelle strutture territoriali. Secondo l'ex presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Tagliente, l'Asla è molto veloce quando le strutture riguardano San Salvo, molto lenta quando le strutture riguardano Vasto. È vero questo? Ma questo dipende chiaramente anche dalle opere e in parte anche dalle carte che ci vogliono, perché questa è un'opera da 3 milioni e 6, devo dire che il Comune di San Salvo ha collaborato al massimo, anche già nella fase progettuale, perché noi avevamo già per il progetto tutti i permessi di deroga, sia di altezza, perché qui era previsto due piani fuoriterra e tre piani fuoriterra, che del confine, perché chiaramente siamo in un'area già urbanizzata e diciamo abbiamo dovuto fare le deroghe per la distanza dal confine. Questo chiaramente ci ha facilitato di avere il permesso a costruire e possiamo aprire il cantiere. Un ospedale che appunto nasce in una zona dove c'è ancora da fare l'urbanizzazione, dove appunto le carte da fare, perché qui parliamo di 3 milioni e 6, lì di 150 milioni sono molto di più e stanotte, nel senso ieri 5 di settembre, ho fatto la delibera che appunto aggiudica definitivamente il verificatore del progetto del nuovo ospedale della Progia e fra un mese, sei settimane, avremo appunto la verifica. Speriamo che vada bene e si va in appalto anche a Vasto. Si sta andando avanti, non c'è né un'accelerazione né una decelerazione, sono i tempi tecnici che ci vogliono. Peraltro a proposito di accelerazioni, insomma se qualcuno avesse fatto fino in fondo il suo dovere nei vent'anni che sono passati l'avremmo già visto nuovo e fatto. Noi abbiamo portato a casa i soldi, firmato gli accordi con i ministeri vigilanti, avviato le progettazioni, le gare. Ora è stata terminata la gara per il verificatore, cioè una volta finito il progetto serve un altro soggetto terzo che ne verifichi la rispondenza ai requisiti di legge. Questa gara, questo affidamento al soggetto che ha vinto la gara, proprio nella giornata di ieri, il direttore generale ha firmato l'affidamento, quindi da lunedì incontrerà l'impresa. L'impresa avrà un mese, un mese e mezzo di tempo per completare la validazione del progetto. Dopo la validazione del progetto può partire l'appalto integrato, che significa che chi vincerà l'appalto, un appalto di quelle dimensioni, solo i tempi di pubblicazione passano alcuni mesi, però al termine di questo appalto integrato avremo l'impresa che farà la progettazione esecutiva e poi avvierà al termine della progettazione esecutiva il cantiere vero e proprio. Si sta andando avanti e torno a dire che poi gli ospedali di comunità, le case di comunità qui a San Salvo, a Casalbordino, a Gissi e nel resto del territorio sono funzionali proprio a rendere più efficiente l'ospedale del territorio che ha sede a vasto, ma riguarda l'intero territorio. Perché? Perché queste strutture potranno drenare sul territorio le richieste di prestazioni che possono essere gestite senza bisogno di ospedalizzazione.